ciao amici benvenuti nel mio canale nella mia cucina oggi preparerò dei funghi alla pizzaiola seguita la ricetta prendiamo dei funghi champignon quelli color crema e togliamoli questo il gambo lasciamoli senza gambo ecco qua prendiamoli e laviamoli benissimo prendiamo un mazzetto di prezzemolo e tritiamolo adesso in un fruratore mettiamo un po di prezzemolo un po di palazzi aglio senza l'anima un po olio d'oliva un pizzico di sale un po di origano frulliamo il tutto una pilofina un po di formaggio filante ok iniziamo a preparare i funghi allora mettiamo dentro del sugo così mettiamo un quadratino o due di formaggio filante prezzemolo e lo mettiamo qua semplicissimo sugo formaggio filante prezzemolo prezzemolo e mettiamo qua e continuiamo con tutti i funghi io ne ho sette tanto siamo in due e ci basta formaggio formaggio prezzemolo ora un filo d'olio e mettiamo in forno 20-25 minuti ecco i funghetti ora in piatto e assaggio eccoli qua ora assaggio mamma mia me ne mangerei 500 allora se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere nessun video mettetemi come sempre qualche commento alla prossima ricetta ciao buon pranzo